Scusa, ma alla fine chi ha vinto le elezioni? Ballottaggio Ballottaggio? Eh Chi è questo? Signora, ballottaggio vuol dire che adesso può votare per uno dei due candidati sindaco Lei per chi vuol votare? De Caro Allora, se vuole votare per De Caro deve prendere la scheda azzurla e mettere una croce sul nome Antonio De Caro all'interno del riquadro Non faccia altri segni sulla scheda Ci saranno anche le schede per i municipi Dovrà fare la stessa cosa Al municipio 1 c'è Michele da Paparella Al municipio 3 Spinsico Al municipio 4 Acquaviva Al municipio 5 Moretti Avanti il prossimo sindaco Vado